Cosa volete dare come messaggio al pubblico avendo scelto questa commedia norvegese da rappresentare in Italia? Risponde Job perché lui l'ha trovata. Intanto i messaggi non se ne danno, si dà qualche emozione al massimo, sono piccole emozioni che forse se tutto va bene stimolano una curiosità nei confronti di un argomento, nessuno spettacolo ha mai risolto nessun problema, i spettacoli servono ad aprire una finestrella sul mondo, se uno ha occhi di guardare la finestrella e di vedere com'è il mondo là dietro, è buon per lui se no finisce tutto lì. E lo spettacolo io personalmente l'ho scelto e poi l'ho proposto a loro perché mi piaceva molto, mi è capitato di vederlo, di leggere il copione e ho detto Cazzarola non è bello questo spettacolo. Però spesso succede che tu dici Cazzarola non è bello, poi lo dai a Jacchetti e dici ma no, fa cagare, allora finisce. Invece anche lui ha detto Cazzarola non è bello, allora abbiamo detto ma facciamo leggere pure il giugno, l'ha detto Cazzarola non è bello, la terza volta abbiamo detto ma forse è bello veramente e per cui poi alla fine l'abbiamo fatto. Quali sono gli elementi che rendono la coppia Jacchetti-Covatt una coppia vincente? Qual è la differenza con la coppia Jacchetti-Greggio? Guarda, la coppia Jacchetti-Covatt è vincente perché Covatt è molto bravo. La coppia Jacchetti-Greggio è vincente perché Jacchetti è bravo. La coppia Jacchetti-Greggio è vincente.